Sabato 12 ottobre 2013, in occasione della nuova stagione Factory Basement, conclusa con la grande apparizione del leggendario Nicky Siano, Boogie Night e Movida House si uniscono e presentano guest star DJ Francis Galante, direttamente dal Platinum Classic House di Verona, con uno speciale DJ set di 4 ore. Resident DJs, Matisse, Passenger & Fabrics S, evento presso Factory Basement, via caduti sul lavoro, Vercelli, infolista e prenotazione tavoli, Danny S, 366 12 55 389, Gym 348 86 66 266, per una partecipazione assicurata, è consigliato l'ingresso in lista, Boogie Night, chiama Movida House in Francis Galante o Nailong, un coniugio meraviglioso. In un club nel cuore del Vercellese, per chi la musica la fa davvero, Stop Music, ore 6, vietato mancare.